Di Gianluca Braschi, quell'infinitesimo intervallo. È stato l'altra sera che, per caso, appena il mio telefono è squillato, vi ho scorto già il tuo nome. In quell'infinitesimo intervallo, affatto impercettibile, ma pure che esiste davvero, nel solco fra il silenzio e la parola, prima di dire «pronto», è scaturito un pensiero stupendo ed insieme terribile, mai pensato finora, spaventoso. Da solo si è insinuato di soppiatto, fin dentro l'interstizio fra il piano del sensibile e l'eterno, e mi ha colto del tutto impreparato, anche indifeso, forse, prima come un rigagnolo, ma poi cascata dal fragore assurdo, nell'altro dei mondi, là dove il secolo è solo un secondo e un attimo dura per anni. È là che mi ha investita tutta quanta di me la parte che con te è restata lacerata da Dì, per sempre, chi lo sa, come un gorgo imponente, un vorticoso rovescio di tornado, un turbinio di cose fatte insieme, di pazzie felici e imprevedibili. Sbatacchia, la Procella, qua e là, le liti nel metrò a Parigi, le piscine Marzianeth ed il pico del Teide a Tenerife, le domeniche sera il giro dei comuni di Romagna, le chiacchiere infinite sul cancello, il maraffone al mare, tutti i giorni sul lettino a tre piazze. Le ho viste volteggiare tutte quante, come in un girotondo di sberleffi fantastici e ridenti, appesi a quell'immobile vortice, come quadri di una nostra privata galleria, gettata all'aria dagli eventi. Sì, così per un millesimo della parte millesima di un lampo segreto di malinconia, ho pensato che forse, dopo tutto, che forse chissà, perché no, la donna saresti potuta essere stata tu della mia vita, ma poi, subito dopo, come se niente fosse, ho detto pronto.